Villa Calcinaia, tra i più antichi produttori di vino della Toscana, oggi anche biologici. Il prodotto di punto è il Chianti Classico, noi siamo in Chianti da 1524, in realtà avevamo anche già terre a greve in Chianti nel 1435. Come fa capire allo straniero la differenza fra il vero Chianti e tutte le fake che ci sono, anche in America soprattutto? È una battaglia continua, è una battaglia continua e il mio approccio storico, io spiego il Chianti è una denominazione la più antica che c'è nel mondo, il decreto del 1716 è un decreto che sancisce quattro zone di produzione che sono insieme al Chianti, il Carminiano, il Pomino e il Vardano Superiore che sono state le prime denominazioni origine del mondo, quindi questo mostrava come fossero avanti i medici e come fosse avanti la Toscana. E questo si sente nel bicchiere? Si sente parecchio nel bicchiere. Come è cambiato il vino, non dico in questi secoli, ma anche in questi ultimi anni, i cambiamenti climatici, nuove produzioni, voi adesso siete biologici? Certo, noi siamo biologici dal 2000 e devo dire che il cambiamento climatico da un certo punto di vista egoistico a noi è andato bene perché in Val di Greve questi due o tre gradi in più hanno significato in questi ultimi anni soprattutto un più facile raggiungimento della maturità dell'uva. Dal rinascimento a oggi cosa non è cambiato nel produrre vino? Realmente la burocrazia. La passione, possiamo dirlo, non è cambiata? La passione è quella che rimane sempre, sempre costante, sia per Firenze che per il Chianti Lassio, sì. Donatella Cinelli Colombini è un'azienda vitigvinicola che ha una particolarità, voi fate delle degustazioni con la musica. Sì, allora intanto parliamo di una cantina al femminile, no? Quindi la prima cantina in Italia totalmente al femminile e come esperienza top che il casato Prime Donne, quindi la nostra cantina a Montalcino, offre, c'è questa possibilità di venire in cantina e non solo assaggiare Brunello, Brunello quindi parliamo di un vino elegante, un vino con una vita molto lunga, ma di assaggiarlo vivendo un'esperienza diversa che è quella di avere in ogni stanza della nostra cantina una degustazione in abbinamento. Ogni vino ha una musica. Il perché noi siamo tutte donne deriva dal fatto che la mia famiglia produce Brunello da molto molto tempo, il mio bisnonno è stato uno dei fondatori del consorzio del Brunello, ma mia mamma quando è partita aveva bisogno di un cantiniere, di un buono studente, erano tutti occupati, ma quando la domanda fu riproposta al femminile la risposta fu totalmente diversa. Signora, se lei è sicura di volere una donna a organizzare le sue cantine sono le migliori della classe, quindi perché no essere diversi e far vedere nella zona nord di Montalcino, quindi quella più fresca, quella dove i vini vengono più eleganti, far vedere un tocco che è ancora più sull'eleganza. Ormai il 28% dei produttori toscani di vino è biologico, ma il vero precursore del vino biologico in Toscana è la tenuta San Vito. È una scelta che ha pagato? Sì, ha pagato. Ora è più semplice sicuramente, perché nell'85 non era facile trovare i prodotti, rispettare determinate normative. A Buy Wine ci sono anche le piccole denominazioni toscane, la fattoria del Tesone è un esempio, un piccolo territorio, conduzione familiare come moltissime aziende toscane. È proprio anche ad aziende come questa che Buy Wine serve? Sì, serve, serve moltissimo perché una doc piccola come la doc di Monte Carlo, siamo nella zona di Lucca, ha bisogno di essere valorizzata, perché essendo una piccola realtà non ha una visibilità elevata. Di conseguenza una manifestazione come questa è molto utile per far sì che i buyer possano avere attenzione su delle denominazioni poco conosciute, ma molto espressive del territorio toscano. Quali sono i principali buyer di aziende come questa? Più stranieri, più italiani, non c'è la Cina per esempio quest'anno a Buy Wine? Sì, la Cina non c'è, però un'azienda come questa crea un certo interesse per quegli importatori che hanno bisogno di trovare dei vini di ottima qualità, meno conosciuti e che riescano a valorizzare bene il territorio. Quindi si avvicinano alla fattoria del Tesone o al Monte Carlo, quindi un vino come una piccola chicca all'interno del panorama enologico, proprio coloro che sono curiosi di voler investire su realtà nuove poco conosciute, che hanno un ottimo rapporto a qualità prezzo.